Siamo con Simone Bodo, capitano del Mundial Football Club, dopo il pareggio contro il Montemario. Simone, ti chiedo subito come è andata questa partita, iniziata bene, poi qualche imprecisione? Purtroppo sì, hai detto bene tu, abbiamo iniziato molto bene il primo tempo, siamo entrati in campo determinati, abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo riparato durante la settimana, purtroppo dopo è venuta l'espulsione, che sincero non so se c'era, non credo, messo e concesso che lui voglia dare il rigore, comunque non doveva buttare fuori il nostro giocatore, da lì la partita è completamente cambiata e ha condizionato tutto. Simone, ti chiedo se dopo il gol del 2-2 pensavi più a riprendere la partita in mano e quindi andare avanti, anche per una situazione in classifica che con un pareggio non accontenta tutte e due le squadre, oppure hai pensato più a proteggerlo il punto? Ho pensato, conoscendo la mia squadra, tralasciando proprio la classifica, ho pensato proprio perché noi siamo una squadra veramente forte, abbiamo fatto tante partite così che ci trovavamo sotto per poi dopo riprendere la partita, ti dico la verità, la sensazione mia dentro al campo era che potevamo vincere benissimo la partita e che l'avremmo vinta, così non è stato, sicuramente con un nuovo meno è ancora più difficile, però va bene così, l'atteggiamento è quello giusto, è di rimanere sempre compatti, nonostante magari anche certi errori arbitrali, che purtroppo per fortuna in prima categoria questi sono gli addiri e ci dobbiamo adeguare, quindi io sono contento della mia squadra, però la prima sensazione, ti dico la verità, era che la potevamo vincere. In 11 la vincevi? In 11 l'avremmo vinta secondo me. Grazie Simone.